Terrone Epiderma, chiedevo a te che sei un eroe Prima abbiamo trovato questo e c'è stato un casino Come funziona adesso? Allora No, no scusate con la bomba Epiderma Questa è stricolosa Sono un eroe tremendo Basta io lo faccio No 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 Piderma no Tranquilli ragazzi è uno scherzo non esplode Era uno scherzo era uno scherzo ragazzi tranquilli Ah hai fatto bene allora Era uno scherzo No Piderma No 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 No